Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi apriremo gli Elastic Horse Hero Pop Di? Chica Boom È arrivato un altro pacco di Chica Boom Adesso lo scarteremo E vedremo cosa c'è all'interno Il pacco è già aperto perché ne abbiamo già sbirciato un pochettino Sì Però non li abbiamo aperti Esatto, quindi adesso li apriremo con voi Vai Meli Esatto Vediamo cosa c'è qua dentro Tadà Allora Allora abbiamo questo È troppo pesante Abbiamo questo Venom Venom Eccolo qua, togliamo questa scatola E poi abbiamo questa Che chiamo fare la ghost spider Ghost spider Abbiamo questi due giocattoli Diciamo si chiamano Elastic Horse Perché adesso lo vedremo perché si chiamano Elastic Horse Che noi adesso apriremo Apriamo Spider-Man Questo maxi size Ok? Maxi size Ah, diciamo pure Prima di tutto se volete iscrivetevi al canale Ok Attivate la campanellina se volete vedere tutti i nostri video E poi vi devo dire una cosa Questa è della Wave 1 E anche questa è della Wave 1 Ok Se volete andate a vedere pure i video vecchi Perché noi abbiamo già fatto degli unboxing di Shikaboom Già Con altri prodotti Gli altri giocattoli Molto belli Ve li posso dire? Sì Vai Allora Il primo che abbiamo fatto di Shikaboom Era il Digipop Il Digipop E poi Ci sono arrivati invece I pun I mu Aspetta I Teenage Mutant Qui No Aspetta Aspetta Ce l'avevi fatta Dai che te l'hai rimparato Teenage Mutant Ninja Turtles Spoonies Squishy Battle Di Shikaboom Bravissima Brava brava Vi mi sei ricordati Va bene quindi Il Digipop Ce l'abbiamo io Il Digipop Fallo vedere Ecco qua Questo è il Digipop A noi ce l'hanno mandato versione panda Aspetta qui Perché Shikaboom sa che noi amiamo i panda Quindi ce l'hanno mandato versione panda E adesso apriremo questi Spider-Man E allora Tutti questi giocattoli di Shikaboom Li potete trovare? Aspetta Allora Li potete trovare? In tutte le edicole Nei migliori negozi di giocattoli Anche sul sito di Shikaboom Esatto Nello shop Dove voi Se digitate il codice Mememaventi Potete ricevere Un giocattolo di Shikaboom Con il 20% di sconto Esatto Se volete comprare Lo Spider-Man Questo qua Ghost Spider Lo potete trovare online Digitando il codice Mememaventi Quando lo acquistate Potete prenderlo col 20% Come detto giustamente Medi E quindi passiamo ad aprire? Sì Qua l'apriamo prima Prima questo Il meglio ce lo lascio Vai Allora Apriamo Apriamo Ecco qua Finalmente Abbiamo dato tutto lo scotch E adesso Lo scotchetto Lo scotchetto Adesso Apriamo E vediamo Qua com'è Già mi piace A me Anche a me Molto carino Ok Oddio Ma è morbidoso È morbidoso Aspetta No vabbè ragazzi Allora La particolarità Degli elasticords È che Li puoi Tirare Li puoi proprio Allungare Oddio Sono tipo squishy L'altra particolarità Di questi giochi È che Vai Meli Lancialo in alto E fallo atterrare Sì Ok Volevo dire Fallo atterrare Sul tavolo Vai così Lo vediamo Ma Scusate Allora Ce la possiamo fare Ecco Si spiatta Attella No Lo devi solo Lanciare in alto Ecco Così Guardate E rimane La forma Rimane la forma Si attellata Facciamolo così Proviamo a farlo Di faccia Vediamo Divertentissimo E poi Sì È tutto morbidoso E che Poverino Allora Adesso Apriamo Questo Mostro Qua Questo È Gigantesco Ragazzi Ma gigantesco Veramente Allora Cerchiamo di Prendere le forbici Ecco qua Allora abbiamo Siete pronti Siamo pronti Forse dobbiamo fare in due Che è talmente grande Vai Tira su Tira su Tira la scatola Vai Vai che ce la fai Vai vai ce la facciamo Allora Allora tu tira da una parte E io tiro dall'altra Vai Ok Accettate Ecco qua L'abbiamo fatta Allora Vabbè Il cartoncino dietro Con la ragnatela Logicamente Parliamo di Spider Man Mamma mia Attenzione Oddio Pesa No Questo ti spiaccica Bellissimo Perché Perché Questo è più pesante E quindi Ti spiaccica Ma Che violenza Le lancia Poi Attenzione Beh La sua natura È questa Ecco Ma cerchiamo di Farlo un po' Rotondeggiante Di nuovo Ma Poverino Allora Allora vai Vediamogli un po' Mi facciamolo diventare Tutto Gli diamogli un po' Di corpo L'elasticorps Vai Boom Allora Poi sono allungabili Chiaramente Perché sono elastici Ecco Si può allungare Vediamo Aspetta Tu prendilo da una parte Però non tagliatelo No no Mai Prendilo da una parte E io lo prendo dall'altra Vai Tira 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 Vai Tira Tira Proviamo con l'altro Al tiro Vai Tu prendi i piedini Vai Tira 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 forte Tira forte Vai Tira Ma non hai forza Allora Poi così Tu lo tieni Io lo tiro Vai Tu tienilo E io lo tiro Lo prendo da qua E lo tiro Attenzione ragazzi Melissa è debole Non ha forza Guarda Oh poverino Ma se questo Gli cade addosso Lo uccide Poverino Aspetta Mettilo qua Così Eccolo Guardate Guardate Ecco La fine No vai La fine Di ghost Spider Mettilo qua E poi Esplode Non esplode Mettilo qua Vediamo Vediamo un po Boom No Trappo poco Boom Va bene Comunque è divertentissimo Ragazzi Cioè Veramente Veramente divertenti Guarda Non puoi vedere A parte che sono bellissimi E il materiale È talmente morbido Che veramente Sembra È un antistress Pure questo Boom E boom Che si è schiacciato Bruttissimo Sembra Uno di quei Di quei Moride Forti È vero È vero Ma guardate Con quanta violenza Le lancia È E serve a questo Ah è vero È vero Va bene Comunque Noi ve l'abbiamo Fatto vedere Vi ripetiamo Che li potete trovare Nelle edicole Tranne questo Che si trova online Se lo volete comprare Lo acquistate Col 20% di sconto Digitando Me me ma 20 Al momento dell'acquisto E poi Li potete trovare Nei migliori negozi Di giocattoli Però in questo C'è poca sabbia Questo ce n'ha troppa Invece Noi ringraziamo sempre Chica Boom Perché ci manda Questi giocattoli Meravigliosi Sono divertentissimi Per tutte le Per tutte le età Per tutti i gusti Maschi Femmine Ci si divertono tutti Per tutta l'età Ah no è vero Dai 4 anni Dai 4 anni in su Hai ragione Scusa Ho detto una cosa Non vera Va bene Quindi noi vi salutiamo E ci vediamo Al prossimo video Iscrivetevi Ciao 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 Ciao